Buon salve a tutti quanti e comprami le carte! Ah no cazzo questo era il video di ieri, scusate ho fatto un po' di confusione visto che l'argomento era lo stesso Allora sono usciti i primi spoiler di Innistrad Nighthunt, cioè caccia notturna Innistrad The Crimson Vow Cioè il voto scarlato, sì scarlato, Crimson è scarlato, ok E sono belli, sono molto interessanti, è qualcosa che vale la pena di vedere e ora la stiamo vedendo Allora questo è l'articolo che hanno pubblicato, che vi leggerò, vi spiegherò un pochettino, vi commenterò un pochettino Perché se andiamo a guardarci i 44 minuti di streaming che hanno fatto ieri per mostrare 5 carte Non ci odiamo così tanto, non abbiamo tutto questo bisogno di farci male Quindi Adam Stiborski, sei nuovo della crew o sbaglio? Ci racconta un pochettino cosa è successo nelle precedenti puntate di Innistrad Allora qui abbiamo una cosa molto interessante Allora una cosa molto interessante che mi hanno detto, che qualcuno nei commenti mi ha fatto notare stamattina Che questi primi spoiler di Innistrad hanno quel tono hallowinesco Che è molto figo perché diciamo, c'è l'idea dei lupi mannari, dei fantasmi, dei vampiri Quelle cose là, insomma è abbastanza facile associarle ad Halloween Inoltre va detto che la Wizard ha avuto dei colpi di genio e di fortuna abbastanza interessanti Nel cercare di associare Innistrad, soprattutto la prima Innistrad, con il tema di Halloween Detto un colpo interessante perché effettivamente buttare fuori l'espansione di vampiri, zombie, lupi mannari e fantasmi Nel periodo di Halloween, soprattutto nell'Halloween americano o comunque anglosassone Che è una cosa abbastanza vissuta, abbastanza radicata nella cultura popolare di quei posti È una cosa molto furba Dico molto fortunati perché siccome alla Wizard, non so se ricordate, hanno lo stand Tafazzi Che gli dice, prenditi a badilate sui coglioni Nei piani originali era previsto che il ritorno di Avacyn e Innistrad fossero switchate E praticamente l'espansione doveva finire male con Avacyn che veniva intrappolata per combattere Griselbrand E rimaneva intrappolata Quindi praticamente Innistrad, l'Innistrad che abbiamo conosciuto noi Sarebbe uscita tipo ad aprile, a maggio Poi la Wizard ha detto Ma aspetta, forse se la facciamo per Halloween, visto un po' il tema così, forse è meglio Sì Wizard, forse è meglio Abbiamo incontrato gli errori della notte la prima volta che siamo arrivati ad Innistrad Le forze dell'oscurità hanno spinto gli umani sulla soglia dell'estinzione in Dark Ascension E i campioni dell'umanità hanno protetto il ritorno dall'Elvault di Avacyn in Avacyn Restored Il mondo ha iniziato a cambiare Qualcosa oltre il malvagio della notte ha iniziato a cambiare un pochettino Quelli che sono i terrori della notte a corrompere la guardiana Avacyn in nombre su Innistrad E poi qualcosa di un pochettino abbastanza inaspettato e molto tentacoloso E' arrivato durante Eldritch Moon, anche nota come Luna Spettrale Il che mi pone un paio di dubbi abbastanza interessanti a livello di lore, di storia Che sono i seguenti Uno In questo annuncio non si parla di Emrakul o degli Eldrazi Allora, tante persone non sono state così particolarmente contente di vedere alcuni dei loro piani preferiti In vase dagli Eldrazi Ed è per questo per cui nell'ultima volta che siamo passati su Zendikar Abbiamo visto tipo un accenno agli Eldrazi Per dire sì sono passati tipo sei giorni ma in realtà non ci sono già più perché sono brutti E mi fa un po' brutto in realtà che anche qui su Innistrad Almeno in questo momento, in questo cosa, non sia stato questo accenno alla presenza di Emrakul E soprattutto a tutti i casini e tutte le mutazioni che ha fatto su Innistrad L'altra cosa che mi chiedo è La pazzia di Avacyn era dovuta al fatto di Nairi sul piano Che con la sua litomanzia aveva in qualche modo incriccato, storto Le aveva dato una bella sprangata sul telaio alle leyline del piano Di cui Avacyn era una vera e propria manifestazione Un po' come lo erano le divinità di Amonkhet E l'aveva fatta sbarellare mare Ok, Avacyn è andata Va bene Però le leyline sono ancora storte, sono ancora piegate E quindi concettualmente tutto quello che, tutta quella che era la pazzia del piano Tecnicamente dovrebbe esserci ancora Ci sarà ancora? Non lo so Però devo dire questa cosa Queste carte, questi primi spoiler di Innistrad sono belli Cioè non mi aspettavo questo genere di carte Allora Infernal Grasp potrebbe essere la removal definitiva del nero Perché non ha limitazioni Cioè nel senso Non ha limitazioni nel target Per il solito il nero è Distrugge una creatura non nera Una creatura non artefatto Una creatura che costa X Una creatura bianca Una creatura verde Una creatura fucsia Eccetera 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 Questa spacca tutto Tutto Poi ovviamente la limitazione classica del nero Che è perdi due vite Cioè paga delle vite per fare delle cose Perché il nero Che è il colore dell'ambizione Il colore secondo cui Per fare una cosa Devi dare un qualcosa indietro Ti fa perdere due vite Vorrei proprio sapere qual è la spiegazione Che sta dietro al blu Che ti fa fare delle cose E ti fa pescare sopra Perché Boh Vabbè Però è figa come removal È veramente molto figa Ed è una promo FNM Play with fire Allora innanzitutto mi piace Perché Ci ricordano che Oltre ai fantasmi Gli zombie Vampieri Lupomannari Ci sono anche i diavoli Sul piano E non mi dispiacerebbe Vedere un qualcosa di diavolesco In più Tra le cose del piano Inoltre Allora È abbastanza figa come carta È uno sparo da 1 Che fa 2 danni C'è uno sparo a costo 1 Che fa 2 danni E se li fai In faccia al giocatore Ti fa fare scray 1 Allora lo scray 1 È molto importante Ma anche il fatto che posso Tirarlo su qualsiasi cosa Non scherza Anche perché In questo momento Sto pensando al Pionier Allora perché In questo momento In cui abbiamo La Dragon Rage Channeler In Modern Tutto quello Che non è uno sparo da 3 O uno sparo Che possiamo fare a turno 1 Secondo me Non è valido Ok Però in Pionier Unire questo A Shock E Wild Slash Ci dà 3 spari diversi Da 2 danni A costo 1 Non è brutta Come cosa Non è brutta Ultimo ma non ultimo Il campione Dei deceduti Che è la parodia O anche in un certo senso L'evoluzione Del Champion of the Parish Che era una carta originale Della prima Innistrad Uno a uno Che ogni volta Giocava in umano Si potenziava E che combatteva Praticamente Per tutti i calzolai Tutti i ciabattai Tutti i mercatanti Che si trovavano lì Era un po' Il protettore degli umani Offscreen È morto E adesso È stato riportato in vita È rinato Dalla tomba Per ogni ciabattaio Per ogni mercatante Per ogni Arrotino Eccetera Eccetera E ogni volta Che entra in gioco Uno zombie Prende più uno Prende un segnalino Più uno Più uno Ora Spero non voglia dire Che ci sarà Un nuovo ritorno Di zombie agro O che l'archetipo Degli zombie Varrà ancora potenziato Perché Ragazzi Non c'ho voglia Però è un bellissimo Richiamo alla prima Innistrad Che è stata una delle espansioni Forse l'espansione Che ho più amato Insieme a Zendicar E una delle espansioni Che tante persone Hanno più amato Rispetto a molte altre espansioni Inoltre È la promo Buy a box Di Innistrad Crimson Knight Poi Altra promo FNM Join the dance Che dice Pedine Vabbè Ma soprattutto Ci rispolvera Il ritorno Di flashback Qui su Innistrad E nello standard Ristampiamo lo snapcaster Dai che ce lo buttiamo Su arena Così ci fate sprecare Le wildcard Ma soprattutto Finalmente Me li posso procurare Perché Non ce li ho Non ce li ho mai avuti E cazzo A sto punto Non voglio dire Che mi mancano Solo quelli Però insomma Ci non sono molte Le staple Per i vari formati Di questo gioco Che mi mancano Quindi insomma Sarebbe interessante Come cosa Anche questa è una promo FNM Non mi ricordo più Se l'ho già detto Poi c'è anche Quest'altra carta qui Perché Dopo averci messo Opt Praticamente In tutte le espansioni E dopo aver fatto Opt Foil Promo FNM Minchia mila Anni fa Adesso Ci serve Un opt Ancora più forte Così che ci cerchiamo Anche quello Questo opt Non scraia Ma sorveglia Che probabilmente Risulterà molto Molto importante Forse anche In modern Anche se Non lo so Se potrebbe andare A sostituire Qualche slot In UR Delirium Perché Continua a Vederci meglio Serum Vision Che vede più carte E soprattutto È sorcery E quindi Sinergizza un po' Meglio Un po' Meglio Col delirio Qui Andiamo a parlare Di Crimson Valve C'è un invito Per un evento Che sarà Un qualcosa A cui tutti Tutti I vampiri Del piano Sono invitati E Non lo so Allora in realtà Potremmo un pochettino Speculare su questa cosa Ma in un secondo momento Ah ecco Magic Showcase 2021 L'annuncio In cui parleranno Di un sacco di cose Il 24 di agosto Avevo sbagliato Di un giorno La data Va bene Commander Party Sarà un esempio Un esempio Un evento Che si svolgerà La notte Di Halloween Su cui però Verremo informati Più avanti In seguito Queste sono Un pochettino Le informazioni Sui vari prodotti Che ovviamente Sono le buste normali Le bustine cuccioloni Quelle che sono pensate Per farci ridere Quando le apriamo I pacchi I teamed deck Pensati per i colori Quella roba lì E le bustine Super mega iper costose Con dentro le carte Super mega iper costose Questo è quello Per Midnight Hunt Questo Allora Io guardo questa cosa E dico Allora L'arte mi fa molto Un po' giapponese Ma lo sapevamo Perché avevamo visto Queste carte in esclusiva Queste immagini in esclusiva Che ci avevano spoilerato La presenza di Arling Kord Vrenen Six E Teferi All'interno Dell'espansione Quindi Sono un po' Cioè sono sicuramente Le arte alternative Di questa espansione Ma non capisco Questo tema Giapponesizzante Almeno a me Sembra giapponesizzante Che non riesco a capire Per un certo periodo Ho pure pensato Che potesse essere Tipo un'altra versione Di Tamio Ma boh Quattro planeswalker Mi sembrano un po' tanti Nuova novità Il bundle Cioè il fatpack Di Innistrad Invece che 10 buste Ne avrà 8 Ottima mossa Wizard Però devo dire Che se comunque Continuiamo a comprarglieli In realtà La mossa è giusta Trisca e Deikai Fila È una tizia Che è contenta Perché se hai 13 carte In mano Ti fa vincere automaticamente Avevo giusto bisogno Di altre carte Che mi fanno vincere automaticamente Crimson Valve Vabbè Abbiamo capito che A meno che non Introducano un nuovo personaggio Per poi Non introdurlo più Questa è Olivia E C'è questa teoria Secondo cui Qua potete vedere Vedete Questo è Sorin Che è caratterizzato Dal bianco E dal nero Perché sono i suoi colori E qualcuno sta dicendo Che in realtà Questo non sia Sorin Ma che sia Edgar Che si sposa Olivia Per unire Quello che resta Della casata dei Markov Con quello che C'è ancora Della casata dei Voldaren E creare Una super mega Casata di vampiri Allora Da un certo punto di vista Sarebbe figo Perché introdurrebbe Nella storia principale Edgar Che in realtà Abbiamo visto solo In Commander E effettivamente Un pochettino Il tema dei colori Ci starebbe Perché Edgar Ha un'identità Mardu Quindi c'è anche Il rosso dentro Però non lo so Cioè nel senso Dipende molto Da come se la giocano Sì ecco Qui abbiamo Un'immagine Un pochettino Più Più chiara Più nitida Potrebbe effettivamente Essere sia Sorin Che Edgar E quindi va bene Anche qui abbiamo Il bundle Questa volta Questa volta Con Otto Booster Perché siamo Siamo stronzi E concludiamo Parlando di Vrenen Six Che non è più Vrenen Six Ma che è Vrenen Seven Spiego Vren Che è il vero Planeswalker È un Planeswalker Driade Che è una specie Di parassita Lui riesce a vivere Nei Nei Girando per il multiverso Solo andando in simbiosi Con alberi del multiverso Con i silvantropi Del multiverso Comunque con Con un qualcosa Di vegetale Quindi Quando l'abbiamo incontrato La prima volta Su Modern Horizon Non so che piano fosse Era con Un albero Con un silvantropo Di quel piano In questo caso Si trova su Innistrad Per motivi Che scopriremo più avanti E sto un po' Iniziando A sospettare Che si sia Fuso Con L'albero Della Triscaidefobia L'albero Del pentimento A meno che Non sia stato distrutto Con la distruzione Dell'Elvolt Devo essere sincero Non so questo dettaglio Però sarebbe sicuramente Una cosa molto interessante Anche perché Se fatta Probabilmente Non è stata fatta Solo per Il puro gusto Di farla Anche se Conoscendo la wizard Potrebbe essere stata fatta Anche per Un eventuale Sviluppo di trama La carta La carta secondo me È bella Perché tra l'altro È il primo Planeswalker Con 4 abilità Se non contiamo Il Garruk I vari Garruk Che si trasformano Che quindi hanno più facce E secondo me È anche abbastanza figo Perché ha questo potenziale Di interazione Di interazione con le terre Magari entra più uno Mi piglio in mano Tante terre Perché nel mio mazzo Ho tante terre Turno dopo Più zero Butto giù Tipo 5 terre In un turno E ci faccio cose Anche l'eventualità Di farci il pedino Che tipo un 5-5 Con reach È figo Però Non lo so Lo sto un po' Pensando In un'eventuale Eventualità Di O un ramp O di un qualcosa Molto simile Al titan shift Valakut Eccetera 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 Di modern In cui Cala giù Tanta roba Può un planeswalker A costo 5 Entrare in un mazzo Come Valakut Da modern Mi No Perché Al contrario Di titano Non è tutorabile E soprattutto Non puoi dargli rapidità A farlo attaccare Per tanto E buttare in gioco Altre terre Sì Perché In un'eventuale Eventualità Di Andare a perdere Il titano Beh probabilmente Il mazzo va a puttane Ma in caso di no Voglio dire Il fatto di potersi rampare Quelle terre extra In più Con il bonus Della dria Dai con il bonus Di azusa Tu comunque Ti fai entrare Tipo qualche Bounce land In gioco In più Fai tanto mana Per un'altra Eventuale cosa Che può essere Non so Un eldrazi Una balista Cose Quindi E' un po' Costoso Magari per formati Come il modern Però Non lo so Ci vedo del potenziale Nel mazzo giusto Con le sue sinergie giuste Ci vedo del potenziale Anche semplicemente Tipo Entra Meno 3 Ci faccio Ci faccio il silvantropo E poi Col più 0 Inizio a farlo diventare Tipo un 10-10 Che fa cose Vede gente Secondo me Il suo potenziale C'è Piaciuti questi spoiler? A me Sono molto piaciuti Ora aspetto I vostri commenti E le vostre considerazioni Sotto Nei commenti Nel video Ci vediamo Alla prossima volta Alla prossima volta Alla prossima volta